L'ASD Battipagliese Volley sta tentando di ristrutturarsi per darsi un volto più competitivo in vista del prossimo campionato. Quali sono le ultime novità, Salvatore Minutoli? Niente, noi poco fa, la settimana scorsa, come già avete letto dai giornali, abbiamo fatto una riunione con alcuni amici imprenditori di Battipaglia dove io e il collega Mimmo Sabato abbiamo espletato il progetto che abbiamo per il futuro della pallavolo battipagliese. Sembra che coloro che sono intervenuti a questa famosa cena che è stata fatta sono entusiasti del programma e cercheremo di sviluppare questo programma in virtù di un progetto grosso di pallavolo. Io gli ho prespettato che dopo tanti anni di pallavolo a Battipaglia ci siamo fermati alla B2 perché le nostre risorse queste sono, più della B2 non possiamo fare. Adesso con loro stiamo cercando di fare un discorso triennale in modo che cercheremo di fare quel salto che compete a Battipaglia per portare la pallavolo a un vertice più alto a Battipaglia. Per quest'anno non ci hanno dato problemi, anzi l'amministrazione si è messa a disposizione per quanto riguarda il palazzetto che ci ha fatto fare allenamento, abbiamo continuato l'attività e tutto. Non so come finirà il palaschiavo che sembra che ci sia l'usca dentro, non so per quanto devono durare ancora. Le stesse strutture scolastiche a noi servono anche per fare un po' di settori giovanili che sono venuti a mancare nell'ultimo anno e mezzo che sono la colonna portante della società. Senza il settore giovanile non vai da nessuna parte. E speriamo che si metta a posto tutto, finisca questo benedetto Covid e ritorniamo alla vita normale che c'era prima.